Benvenuti ragazzi o bentornati sul mio canale, sono Divix, un'altra vittoria in Champions League altri tre punti importantissimi che ci proiettano momentaneamente in vetta a questo girone di Champions in questa nuova formula di cui ancora dobbiamo scoprire tantissime sfaccettature abbiamo davanti altre partite complicate, insidiose, ma l'Inter fino ad oggi ha fatto un percorso praticamente perfetto e dobbiamo esserne orgogliosi. Ho parlato tante volte di mentalità, secondo me questa sera si è vista la mentalità si sono viste tante cose belle, poi alla fine l'Inter si è abbassata, quando si è abbassata non mi sono piaciute determinate cose tattiche, ve lo andrò a raccontare, ma nel complesso come sempre quello che conta è vincere ed è ancora più importante farlo in Champions League perché non lo dico sempre, non lo dicono tutti ma ogni vittoria corrisponde a milioni che entrano in cassa, o milioni aggiuntivi pertanto oltre alla qualificazione, oltre a divertirsi e a fare bella figura è anche importante per le casse e club, sapete che non abbiamo sempre bisogno di soldi quindi non fanno mai male. Scrivetevi qui sotto cosa ne pensate, come sempre ma prima guardate il video perché ci sono tanti argomenti di cui parlare, buona visione! Sono soddisfatto, lo dico senza timore perché Lipsia è vero che era in difficoltà ma è una buona squadra, una squadra che comunque sia ha fatto vedere di avere giocatori importanti giocatori richiesti, tanti giovani talenti e non era scontato e facile giocare questo tipo di partita anche se l'Inter era in casa. Ho visto per lunghi e larghi tratti una bella Inter che ha saputo giocare palla a terra, che ha saputo cercarsi velocemente e in verticale la solita nostra identità finalmente portata senza timore anche in Champions League in Champions League tante volte ho visto una squadra coraggiosa, grintosa, di cuore ma quello spettacolo vero che si vede tante volte in campionato non veniva traslato non nascondo però, non vi mento, che l'Inter si è abbassata soprattutto nel secondo tempo e ha rischiato poi non tanto di pareggiare perché poi Lipsia non ha avuto grandi occasioni da gol ma quando ti abbassi così tanto ovviamente una spizzata, un tiro deviato, tutto può succedere in questo sicuramente dobbiamo migliorare perché avremmo potuto essere tranquillamente sul 2-3-0 perché l'Inter ha prodotto diverse occasioni da gol, ha fatto vedere di saper giocare a calcio ma non ha concretizzato, addirittura siamo riusciti a segnare su un autogol e quindi per questo ci sarebbe da capire, da comprendere come mai se devo dirvi la mia opinione, quando l'Inter gioca così sembra che voglia entrare in porta con la palla e tante volte questo è un piccolo difetto da correggere, bisogna essere più cinici, più aggressivi e cercare di fare in modo che la fortuna arrivi perché se non tiri, qualsiasi cosa succeda è impossibile fare gol prima di andare all'analisi dei singoli, poi ci sono diversi giocatori che mi hanno stupito, sorpreso voglio analizzare la parte negativa e lo dico subito, di quello che non mi è piaciuto questa sera è vero, l'Inter si è abbassata e può succedere, un po' per stanchezza, un po' perché l'avversario deve recuperare quindi un discorso anche mentale, ci sta, non pretendo che la nostra squadra sia sempre e costantemente per 90 minuti nell'area di rigore avversaria, ma quello che non mi è piaciuto questa sera in realtà non è stato il fatto che l'Inter si sia abbassata, è stato il fatto che l'Inter in più di un'occasione, nel momento in cui Lipsia sembrava aver smollato un pochino il pressing alto che comunque ti comporta un enorme dispendio energetico, non ha saputo gestire la palla nella propria metà campo. Tante volte, tantissime volte, ci siamo ritrovati magari con gli attaccanti che non hanno voluto attaccare a loro volta la porta avversaria, ma hanno voluto gestire il possesso magari tornando ai centrocampisti, i centrocampisti a loro volta sono tornati ai difensori i difensori sono tornati a loro volta al portiere e il portiere è finito per tirare lungo sul pressing della punta avversaria. Ecco, questa dinamica si è ripetuta numerose volte durante la partita a quel punto mi viene da dire che se dobbiamo calciare lungo è meglio che lo faccia un difensore o un centrocampista piuttosto che Sommer, che questa sera per intenderci ha dimostrato di avere due ottimi piedi sia destro che sinistro. Mi aspetto invece che l'Inter sia più brava a gestire questi momenti, riuscendo a rallentare il gioco, riuscendo a smorzare il pressing avversario col giro palla, facendo stancare gli avversari e se vuole trovare un difettino tattico a questa squadra credo che sia proprio questo. Andando invece nei singoli, vi dico i tre nomi che mi hanno impressionato di più questa sera e li metto davanti a tutti con un migliore in campo che è il mio ovviamente e poi vi metto il giocatore che a mio avviso è quello che ha veramente spaccato la partita. I tre migliori in campo a mio avviso sono stati Bissek, entra al posto di Pavard che è stato in grossa difficoltà durante il primo tempo, mentre invece quando è entrato Bissek, Openda addirittura si è spostato a volte sull'altra fascia per cercare più spazio per cercare di trovare la giocata pericolosa, pertanto Bissek bravissimo, sta migliorando partita dopo partita e quando qualcuno mi diceva Pavard quest'anno non è a livello dell'anno scorso, io credo che quando tu hai dietro un giocatore che sta migliorando e diventa forte, psicologicamente tu soffra di più la pressione. Ovviamente spero che lui non si sia fatto niente perché lo ritengo un giocatore fondamentale di esperienza, tecnico e di qualità e quindi io lo vorrei sempre titolare nell'Inter, ma quest'anno con Bissek così dietro sicuramente lui dal punto di vista mentale qualcosina ha sofferto. Il secondo mio nome per migliori in campo è Ziliski che questa sera fa la migliore partita da quando è in Nerazzurro, mi è piaciuto tantissimo, mi è piaciuto tantissimo sia nel ruolo di mezzala sia nel ruolo di regista, bravissimo perché veramente ha cercato sempre e comunque di verticalizzare e non l'ha giocata lì indietro, l'ha giocata orizzontale, bravissimo perché è riuscito a velocizzare in gioco, l'avevo criticato un pochino nonostante avesse detto che aveva giocato bene nell'ultima partita, invece questa sera è stato veramente bravo perché in più di un'occasione è stato proprio lui a velocizzare e a far ripartire i contropiedi dell'Inter. Ziliski è stato un giocatore che ha fatto una prestazione super. Il terzo giocatore che è il migliore in campo, il mio migliore in campo, metto Denzel Dumfries, lui fa e disfa, non mi aspetto però da Denzel Dumfries la qualità, perché se un giocatore non ha la qualità, io non sono un amante di Denzel Dumfries, ma se un giocatore non ha la qualità io non vado a guardare o a cercare la qualità in questo ragazzo, ma questa sera ha messo tutta la quantità che aveva nel corpo, addirittura stava venendo fuori un gol clamoroso e lì qualche qualità ce l'ha messa anche con quel dribbio in di tacco, rovinato poi con il tiro in porta, ma Denzel Dumfries è stato veramente l'uomo in più questa sera, tantissimi cross, sempre presente in area di rigore, bravo in fase di chiusura, se giocasse sempre così sarebbe veramente un top esterno mondiale, gli manca la continuità, e secondo me la continuità che gli manca non è fisica, non è tattica, ma è proprio un mentale, ho la sensazione che lui stacchi il cervello, a volte semplicemente non sia in campo, sia da un'altra parte. Lo spacca partita questa sera invece è Marcos Turam, che dimostra ancora una volta di essere un giocatore di un'altra categoria, mi è piaciuto anche Lautaro, sono onesto, Turam però questa sera quando è entrato ha messo da solo completamente in difficoltà tutta la difesa dell'Ipsia, giocatore di un'altra categoria. Devo essere onesto, ci sono altri giocatori da nominare, ci sarebbe De Vrij che ha fatto una partita mostruosa anche lui, ci sarebbe Barella, anche Nicolò mi è piaciuto moltissimo, in realtà mi sono piaciuti quasi tutti i giocatori dell'Inter, se devo trovare un piccolo neo, il nome che faccio è quello di Taremi, mi aspettavo di più da lui, soprattutto dopo il precampionato e dopo quello che comunque aveva dimostrato di saper fare in Europa e in Portogallo. Sono contento che i tifosi dell'Inter non gli stiano riservando lo stesso trattamento che hanno riservato ad Arnautovic, questo permetterà al ragazzo di giocare con più tranquillità e sono sicuro che si sbloccherà, però sono onesto, mi aspettavo di più e mi aspetto di più, perché è vero che Turam è di un altro livello, ma Tremi ha uno stipendio alto, è stato preso comunque con un top player che molti dicevano avrebbero dovuto giocare titolare, non avrebbe dovuto scegliere l'Inter per fare la terza o quarta scelta, in questo caso lui deve dimostrare quando gioca a titolare queste partite di essere a livello degli altri e credo che mentre negli altri settori del campo stiamo dimostrando di avere riserve di valore, davanti in questo momento sia Arnautovic che Taremi non siano assolutamente a livello di Turam e Lautaro. Bravo a Simone Inzaghi che conferma a tutta Europa che la sua Inter ha un'identità e che non è soltanto una squadra a catenaccio e contropiede come qualcuno aveva detto dopo la partita con l'Arsenal. Scrivetevi qua sotto cosa ne pensate, noi come sempre ci vediamo al prossimo video, se non siete iscritti al mio canale e vi piace l'Inter, iscrivetevi, ciao ragazzi!